Tumori neuroendocrini, di che cosa si tratta, quante persone colpiscono e quali sono i tre principali aspetti di questa malattia? I tumori neuroendocrini sono una patologia diffusa, laddove ci sono cellule neuroendocrine si possono formare tumori, un po' come per tutte le altre neoplasie. Naturalmente i tumori neuroendocrini che hanno il maggiore impatto in Italia sono i tumori del polmone, ad origine neuroendocrine, e il tumore del tratto gastroetano-pancreatico. Sono forme cosiddette rare perché non superano la soglia dei 6 affetti per 100.000 abitanti, ma hanno una grandissima prevalenza perché se trattati nella maniera corretta, naturalmente sopravvivono a lungo, hanno un'ottima qualità di vita e rappresentano quindi un burden anche economico che non è pari alla rarità della patologia. Quanto è importante trattarli nel modo corretto o nel senso di multidisciplinare? La rarità è purtroppo un handicap oltre alla malattia. Il fatto di essere rari e estremamente complessi nel loro trattamento richiede naturalmente un team multidisciplinare che veda molti specialisti seduti allo stesso tavolo fin dalla diagnosi. Naturalmente per avere tanti specialisti coinvolti bisogna che la numerosità campionaria sia importante per dedicare risorse e quindi naturalmente nasce il concetto dei centri di eccellenza, cioè laddove ci sia non solo la specialità, ma ci deve essere la competenza e un numero di pazienti sufficienti per naturalmente maturare l'esperienza e fornire risposte. In Italia com'è la situazione e quali sono le criticità ancora da affrontare? Ci sono due aspetti. Uno l'Europa da questo punto di vista è stata virtuosa perché c'è la Società Europea di Tumori Neuroendocrini, di cui io sono stato presidente, che ha portato avanti un programma proprio in questa direzione che mira al riconoscimento da parte di una società terza dei cosiddetti centri di eccellenza, che devono avere alcune caratteristiche, tra cui avere 80 nuove diagnosi all'anno, quindi un numero sufficiente di pazienti che giustifichino le risorse investite, devono fare ricerca, devono mantenere dei registri che monitorano l'andamento della patologia e quindi possano fare scienza nell'immediato e nel futuro. Dall'altra parte il sistema sanitario nazionale è un po' in contraddittorietà con quello che riguarda l'aspetto della rarità, perché naturalmente ci sono regioni a bassissima popolazione e quindi diciamo che la rarità dovrebbe prevedere un sistema in Italia diverso rispetto a quello in atto e quindi riconoscere dei centri cosiddetti di esperienza o di eccellenza sul piano del territorio nazionale non legato alle regioni.